Sono passati cinque anni da quando Giulio Reggeni è stato rapito e poi abbiamo scoperto torturato e ucciso. Sono cinque anni che chiediamo verità e giustizia, collaborazione da parte delle autorità egiziane. Bene ha fatto Mattarella oggi a rinnovare l'appello all'Egitto affinché dica che cosa è successo e perché è successo a Giulio di morire in Egitto. Anche l'Europa dovrebbe occuparsi di questa vicenda perché non esistono interessi geopolitici o economici che tengano di fronte alla verità e alla giustizia. La verità e la giustizia non hanno prezzo e non vogliamo che tutto quello che è successo a Giulio debba ricapitare. È per questo che chiediamo che Patrick Zaki venga immediatamente liberato.